lesson number one tu adesso entra in negozio e ruba stereo ruba ruba bello grande portatile il mio si è rotto e lei non ne può fare a meno tu paura bevi la birra che ti dà carica bevo una anche io ok bevo bevo anche una birra che c'è adesso con coraggio adesso entriamo io e lei e non tu va io sta qui è rimane qui vabbè da solo devo andare allora vado scusa mi posso fare il segreto la croce no neppure il segreto la croce vabbè è che sono un po' imbranato sono un esordiente totale il portone totale e fortione sono tutti arrivati via via va via guarda che sono meno pratico e lo dico io ingegnero lindegno sono molto poco pratico da qui vai Vai, avanti, metto il moto. Che fai? Il moto e adesso stiamo andando. Tu esperto! Ehi, dove va? Venga qui, si fermi! Ha dimenticato la garanzia, lo scontrino fiscale e il resto. Le serve la fattura? Tu l'hai comprato? Eh, no, no. E ciò volevo... Ho fatto uno sconto eccezionale. Tu l'hai comprato? Sì, signore, ci sono anche due pile in regalo. Eh, sì, sì. A rivelerla è grazie. Ci sono due pile in regalo, eh, quindi... Tu mangi a pile? Mangia! Mangio, eh? Perché non ho fame adesso? Mi vuole un... No! Mangio io, eh. Buon po'. Mmm. 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 Buon po'.